Di Palma, parte il match, prova ad accentrarsi, Di Palma pronto al tiro che sfugge a De Felice poi serve Pesenti, ha un po' di spazio la conclusione, finisce sul fondo, Elia, ancora Giuseppe Buono si fa vedere Prudente, la conclusione tentata anche da vicino da Pesenti, Elia, prova la conclusione dopo lo scambio con Cantieri e c'è il 2-0, Maione, Cantieri, verso Di Palma, conquista il pallone Prudente, prova a lanciare il contropiede del Forio ora Giuseppe Buono pensa per un attimo al tiro, la finta, il pallone che passa e allora Pesenti, tocco con l'esterno per Iaccarino, poi prova la conclusione e accorcia le distanze Giuseppe Buono contro De Felice e la parata e si riparte, Buono Buono si infila, poi il pallone per Solmonese, il tocco di esterno, arriva Iaccarino, sul petto di De Felice poi ancora Iaccarino, nuovo contropiede da parte della Fenix con Di Palma che serve Cantieri Maione prova la conclusione, ancora Maione, palla sul destro, azione insistita un po' di spazio per lui, Cantieri Maione, palla sul Mancino, il palo Buono, pallone per Spiezia nel centro dell'area, Spiezia deve girarsi, il pallone passa per un attimo Buono, palla sul Mancino De Felice, sbaglia il passaggio, pallone per Buono Buono, la conclusione Pensa per un attimo al tiro, poi la cede a Spiezia che prova la conclusione il pallone finisce fuori Elia, Pesenti Pesenti, ancora per Elia, palla per Buono, Buono entra in aria, prova ad infilarsi ancora per Cantieri Ruba bene il pallone Giuseppe Buono, Elia prova ad infilarsi, finisce a terra, Di Palma, tutto regolare Di Palma, Di Palma, si accentra, Elia, anzi c'è Cantieri per il gol del 4 a 1 4 a 2, scusate Elia Di Orio, gli ruba il pallone, occhio a Di Orio, contro Rotolo, passa Di Orio Si fa vedere Alaia, perde palla però Di Palma Prudente, palla sul destro La rincorsa di Di Palma Il gol del 5 a 2 Iacono direttamente da Elia Prudente, servito, la conclusione di Prudente pallone fuori ormai praticamente scaduto il tempo e finisce infatti la partita 5 a 2 il risultato Grazie a tutti Grazie a tutti.